Insisti con Gesù nella preghiera. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Lasciamo che anche oggi la luce della parola di Dio entri nella nostra vita e produca grande frutto. Accogliamo il Vangelo secondo Matteo, capitolo 15 dal 21 al 28. In quel tempo Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare. Pietà di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è molto tormentata da un demonio. Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono. Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando. Egli rispose, non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo, Signore, aiutami. Ed egli rispose, non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. E' vero, Signore, disse la donna, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le replicò, donna, grande è la tua fede. Avvenga per te come desideri. E da quell'istante sua figlia fu guarita. Amè. Carissimi, oggi, Matteo 15, vediamo come Gesù esca dalla terra sua, dalla terra di Israele, e va, si ritira verso la zona di Tiro e Sidone. E' un terreno, un territorio, dove solitamente c'erano i pagani. Una terra che era lontana dalla salvezza di Israele, dalle promesse fatte da Dio ad Israele. Quindi ben si guardavano i giudei prima di entrare in quella terra e dall'accostarsi, avvicinarsi e parlare addirittura con queste persone. Qui si avvicina, appunto, una donna cananea di quella zona. Si mise a gridare. Pietà di me, Signore, figlio di Davide. E' interessante di come una pagana si rivolge a Gesù con espressioni tipicamente cristiane, cristocentriche, cristologiche. Cioè, Kyrie eleison, Signore, Pietà, figlio di Davide. Uno degli attributi messianici più importanti da parte di Israele. Eppure è una pagana che dice a Gesù, tu sei il Kyrios, sostantivo prettamente cristologico, che indica da parte della prima chiesa cristiana la confessione di fede. Gesù è il Kyrios, Gesù è il Signore. E Kyrios era proprio quel sostantivo, l'appellativo con il quale ci si riferiva e si parlava di Cesare, dell'imperatore, di colui che sulla terra governava al di sopra di tutti. I cristiani attribuiscono Kyrios a Gesù, Signore dell'universo. Questa donna, dall'altra parte di Israele, si rivolge a Gesù in un modo, in un senso e con un discorso assolutamente messianico, cristocentrico. Come sono le nostre preghiere, cari fratelli e sorelle? Come noi ci rivolgiamo a Gesù? Questa donna chiedeva una grazia a Dio e lo fa innanzitutto considerando la propria miseria. Sapeva di essere espulsa, allontanata e lontana da tutte le promesse di Israele. Eppure va da Gesù e lo chiama Signore e lo chiama figlio di Davide. Riconosce che lui è il Cristo, è il Messia, l'unto di Dio e gli dice Credo in te, vieni a guarire, vieni a liberare mia figlia. Abbiamo tre atteggiamenti di rifiuto da parte di Gesù. Infatti si dice al versetto 23, ma egli Gesù non le rivolse neppure una parola. Poi i discepoli dicono, ma dai esaudiscila, non vedi come ci sta gridando dietro? Secondo rifiuto, non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. La donna si avvicina, si prostra e dice, Signore aiutami. Terzo rifiuto, donna. Non è bene prendere il pane dei figli, i figli di Israele, e gettarlo ai cagnolini. Così venivano considerati coloro che erano fuori da questa terra, al di là delle promesse del popolo eletto da Dio. Tre rifiuti, apparenti, perché tra poco capiremo che non sono rifiuti, ma è una pedagogia di Gesù, che anche usa con noi, non solo con questa donna. Fino a quando la donna insiste, per la quarta volta potremmo dire, perché dopo tre rifiuti, la quarta volta dice, sì, Signore, ma anche questi cagnolini, come voi dite, di noi, mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei padroni. Ecco Gesù cosa vuole sentire. Innanzitutto Gesù attende che tu sei insistente. Non basta dire una volta, Signore aiutami. Signore intervieni. Insisti con Gesù, come ha fatto questa donna. E Gesù vuole vedere quanto grande è la tua fiducia. Non parliamo di fede, di fiducia. Hai fiducia che Lui ti ama? Hai fiducia che sei prezioso ai Suoi occhi? Grida a Lui, insisti, non cedere. Dio interverrà. Dio ti ascolterà. Certamente, secondo la sua volontà, ma ti ascolterà. A volte sembra che sia lontano da te e che ti rifiuti, come ha fatto qui. Ma voleva mettere alla prova questa fede. Una fede che è di chiunque invochi il nome del Signore. Ecco perché Gesù, e in Matteo viene riproposto, si apre a tutti, non solo al popolo di Israele. Il figlio dell'uomo è venuto per salvare il mondo. Signore Gesù, grazie per questa parola. Accolgo il tuo invito ad insistere nella mia preghiera. Signore, tutte le volte che io mi stanco di chiederti, tutte le volte che io mi scoraggio perché vedo che tu non intervieni. Signore, tutte quelle volte che nel passato anche sono stato deluso perché mi sembra che tu non sia intervenuto. Per tutte queste volte ti chiedo scusa, Signore, perché non ho insistito con te. E ti chiedo al dono del tuo Spirito Santo oggi per avere fiducia, costanza e perseveranza nel chiederti, ma soprattutto fiducia, che tu come mio Padre buono mi ascolterai. E a te sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, ricevete lo slogan di oggi Insisti con Gesù nella preghiera e Lui ti ascolterà. Ascolterai il grido che uscirà dal tuo cuore. Vedrai. Amen. Oggi anche vi voglio annunciare che le prossime serate bibliche che vi proporremo in questo mese di agosto avranno come tema la storia della salvezza. Un tema meraviglioso dove vedremo con uno sguardo sintetico come Dio è intervenuto dal principio nella storia dell'uomo, nella storia di Israele, attraverso diverse tappe fino a mandare a noi suo figlio Gesù. E fino a questo tempo che viviamo che è l'attesa della seconda venuta. Ecco allora, alla luce della parola di Dio, serate bibliche dal tema La storia della salvezza. Iscrivetevi sul nostro sito web. Grazie per avermi accorto. Ci vediamo domani. Ciao. Ciao. Grazie a tutti